Un milione e mezzo di musulmani sono andati alla Mecca, nell'Arabia Saudita, per il pellegrinaggio. Venerdì in migliaia hanno camminato intorno alla Kaaba, il luogo più sacro dell'Islam. L'Aj, come si chiama in arabo il pellegrinaggio alla Mecca, è il quinto pilastro dell'Islam e tutti i musulmani, in salute e con disponibilità economica, devono farlo almeno una volta nella vita. Ma quest'anno il Qatar ha protestato dicendo che i suoi cittadini sono stati esclusi a causa dell'enorme antiterrorismo sarebbe stato impossibile ottenere un visto.